Oggi siamo qui, siamo qui con il mio amico Ralf. Da quando ti sei trasferito qui in Italia siamo diventati buoni amici. Sì, sì, molto amici qui. È facile qui diventare amici. San Vincenzo è facile per fare amicizia. Adesso ho molti amici e ho una molto grande festa per il mio compleanno con 59 amici italiani. Sì, sì. In soli due anni. E non ho capito l'inglese. Tutto questo Ralf ce lo racconterà nella nostra nuova rubrica che abbiamo chiamato l'angolo di Ralf.